Dopo la lunga discussione sulle autorizzazioni agli scarichi, a Giarre il Consiglio Comunale tornerà a riunirsi domani sera un'altra volta per esitare debiti fuori bilancio. Anche stavolta sono accorpati più riconoscimenti di legittimità in un'unica delibera, ma essendo la vicenda riguardante un'unica fattispecie, nello specifico l'esproprio di più lotti di un unico terreno, stavolta il Presidente della Terza Commissione Bilancio e Finanze Francesco Cardillo, si è ammorbidito in un momento storico in cui lo stesso Francesco Cardillo sta continuando a puntare i piedi. Dopo la vicenda stadio che ha incrinato i rapporti con Piero Mangano e con il suo gruppo Giarre e Viva, adesso Cardillo sta puntando i piedi con Angelo Danne e Salvo Vitale per la mancanza di chiarezza su Consuntivo 2015 e Bilancio 2016. Questioni rimaste in sospeso su cui Consiglio e Terza Commissione nello specifico non hanno più alcuna contezza. Ma la vera crisi che Angelo Danne è chiamato a gestire si chiama adesso Francesco Longo. Il Presidente del Consiglio Comunale si è sentito escluso dalla scelta del nucleo di valutazione dopo aver lamentato nelle settimane scorse come Danne non lo avesse coinvolto nelle iniziative per l'ospedale. Se fino a qualche mese fa Longo poteva contare sulla sponda di Piero Mangano e Sara Giuffrida, dopo l'atto di indirizzo sullo stadio del 22 gennaio scorso in cui Longo votò con l'opposizione, adesso i ponti si sono interrotti e la guerra tra le prime due cariche del Comune di Giarre non ha più mediazioni.